Oggi è la giornata mondiale della libertà di stampa. Abbiamo fatto un giro in città per capire se le persone pensano che in Italia esista la libertà di stampa. Ci sono delle correnti di pensiero che devono essere seguite, poi i proprietari dei giornali, secondo me diciamo sì e no. Molte notizie che vengono promulgate dai telegiornali hanno già un taglio voluto dai partiti di maggioranza. Sono delle trasmissioni piuttosto faziose e piuttosto di parte. A me mi sembra che le domande le fanno tutte precise, non gli chiedono mai niente perché se no rischiano il posto. Quando si è liberi di scrivere e pilotare il pensiero delle altre persone è una libertà che non va più bene. Aspetta da altri paesi sicuramente sì. È finanziata completamente dal governo. La intendo con una libertà di stampa meno burocratica, meno artefatta, più veritiera. Per me c'è un abuso della libertà di stampa. Non esiste la libertà di stampa, l'abbiamo visto con quello che sta succedendo, la guerra in Ucraina, ma il Covid, libertà di stampa che? Hanno fatto passare delle notizie veramente deleterie, quindi non c'è assolutamente libertà di stampa. Tutta la stampa comunque è sempre da una parte. Io credo che sia libera nei suoi massimi livelli. Secondo me c'è libertà di stampa, con tanti giornalisti assoggettati a padroni dei giornali comunque. Le cose tu le si vieni a sapere in diversi modi, da diverse fonti e quindi forse tanta libertà non c'è. Possono parlare soltanto i potenti e basta. È pilotata dalla politica. Ognuno dice la sua. Mi sembra che ancora ci sia una grossa censura rispetto alla stampa, ma punto interrogativo. Ci sono comunque dei poteri, insomma dove la stampa sicuramente non come negli Stati Uniti d'America, che insomma è un po' il cane, la guardia del potere, mentre da noi secondo me insomma siamo ancora lontani da questa cosa.